Allora che cosa vi propongo? La tabella è poco visibile ma ve la forniremo vi propongo di incrociare le variabili cioè se vi trovate di fronte a un metodo digitale provate a incrociare in alto ci sono le situazioni l'esposizione degli insegnanti e così via a sinistra ci sono le potenzialità provate a vedere se questi elementi vedono che sia un lavoro che è uno sfida è un lavoro che è da poco quindi ci sono ci invece poco tempo di stoic sistema è possibile ipotizzare quindi di avere degli strumenti di analisi ma non soltanto di analisi ma anche di forse attenzione